Buongiorno sono attualmente le 21.49 e sono pronto a tirare scleri potenti su questo maledettissimo gioco Benvenuti nel quinto episodio su Clash Royale, bentrovati, intanto vi ricordo subito di lasciare un bel like al video E soprattutto iscriviti al canale perché più del 50% di voi non sono iscritti al canale Quindi che cosa stai aspettando? Signori, signori forse oggi è giunto il momento 6.892 coppie, ci siamo veramente quasi Però intanto ci andiamo a ritirare qualche baule perché signori oggi andremo a ritirare pure questo super baule Quindi non perdiamoci in chiacchiere, 25 gemme, ci prendiamo un po' di oro Dai dai c'è qualcosa di buono, troppo buonissimo questo perché ci danno 40.000 monete in più e siamo a 190.000 Ok ha alzato un po' il volume, ci siamo? Allora, 1.300, 2 gemme, capanna dei barbari, barbari, capanna goblin e congelamento Che baule orrendo signori Allora, oro 500 oggettoni, perfetto E che emot, signori, questa è una super emot Signori, se ancora non l'avete fatto iscriviti al canale perché qui si scrive la storia 25 gemme, ti prego Mi serve il monaco, mi serve il monaco, l'unica carta che mi manca per completare la collezione Attenzione, jolly su jolly, jolly su jolly che cosa mi dai? Oh, scintilla Te prego Siiii, signori, finalmente abbiamo finito la collezione Oh, yes, il monaco, dai, 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 intanto vi ricordo di lasciare un bel commento sotto questo video Che mi metto il cuoricino che fa molto piacere Signori Intanto andiamo a selezionare questa super emot Che Si sblocca con il pass La mettiamo al posto di questa Ok, che ci dà il bacione Signori Non lo so Non lo so come andrà So solo che ho 204.000 di oro E poi magari ce ne andiamo a potenziare qualcosa Vediamo, speriamo, speriamo, speriamo Adesso secondo me il gioco per punizione Visto che abbiamo trovato il monaco Sicuramente ci fa perdere Speriamo bene, speriamo bene Allora, arrivo al livello 13 Ok, ok, interessante Intanto vi ringrazio per il supporto negli scorsi video Veramente Mi fa veramente molto piacere Allora, un po' di danni sono entrati E devo dire che non è assolutamente male Spero solo non sia un 2.6 O una roba del genere Perché Non c'è bisogno di commentare, mi sa Non c'è bisogno Devo dire che non c'è bisogno di commentare questo deck Però Si può fare E' difficile Perché secondo me Lui in per 2 mi devasta Ragazzi in per 2 Se se la gioca bene Potrebbe seriamente devastarmi Intanto vi ricordo che mi trovate in live su Twitch Quasi ogni giorno Adesso che state principalmente Dalle 11 alle 13 Ragazzi Un po' di danni sono entrati Nella torre di destra Quindi Speriamo bene Adesso Lui pure il goblin Cerbottaniere Quello lì Mi potrebbe dare un po' di problemi Devo essere sincero Non me lo aspettavo Il gigante elettrico Ok Entrano ancora tanti Io cerco di depotenziare Più possibile Prima del per 2 Perché se no ragazzi E' un problema E' anche bello grosso Allora Fin quando Lui va così A me va bene Distruggimi quella Perfetto Fin quanto lui fa questi attacchi qua Mi vanno più che bene Lui ha la zap Quindi entra qualche dannetto Ma non dovrebbe crearmi Più di tanto disagio Allora quindi Vediamo cosa fa lui In teoria se Ok Ah ok Merda Non lo so Però Secondo me Si può fare Ho fatto bene A non utilizzare la fireball Allora Goblin Cerbottaniere Li hit No sbagliato No invece no Perfetto Hit una volta Barile goblin Vediamo cosa mette lui Adesso da qui in poi Devo stare attento Ragazzi Da qui in poi Ragazzi Non è semplice Lui metterà il gigante Eccolo Ecco Io avevo paura di questa cosa Ragazzi Avevo paura di Avevo proprio paura di questo Io Avevo proprio paura di questo Non dovrebbe farmi la torre Ma Praticamente Letteralmente me l'ha fatta Io devo per forza attaccare Se no Ciao ciao Ok Ragazzi la devo solo tenere La devo solo tenere Te prego No ragazzi No No Ho sbagliato qua Qui ammetto che ho sbagliato io È difficile È difficile ragazzi adesso Cavolo ce la potevo fare È proprio sbagliato io C'è problema Non c'è problema Noi ci proviamo lo stesso Come va va No È questo un misclick Che per Va bene Qui ragazzi Ufficialmente Mi merito di perdere la partita Dopo questo errore che ho fatto Mi merito di perdere la partita Eh ragazzi Qua Me lo merito Di perdere proprio la partita Ho fatto un errore gravissimo qua Questo errore non dovevo farlo È proprio Penso di non aver mai fatto questo errore Con la torre infernale Girati No non si è girato Devo perdere la partita Con questi due miei misclick Devo per forza perdere la partita Perché è giusto così È giusto così Ragazzi è giusto così Anche se abbiamo perso Merito 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 la mia sconfitta Peccato Mi dispiace perché Devo difendere Devo difendere Meglio Madonna ragazzi Quei due misclick Madonna santissimo Che due misclick Che ho fatto Mamma mia ragazzi Mamma mia che misclick Che ho fatto Guarda Veramente mi sento Guarda Potete capire Ho fatto delle giocate Pessime Però io ve le voglio pure Mostrare queste giocate Perché Secondo me vanno mostrate Intanto mi volevo potenziare La mongolfiera Secondo me è una carta Fortissima Volevo potenziarmi Anche il golem Di elisir Che utilizziamo Un po' di jolly Ma va bene lo stesso E tanto che ragazzi Con questo slasher royale Potenziatevi le carte Siamo a 104.000 di oro Ragazzi Io ci riprovo Ma mamma mia Quell'errore Che ho fatto Ho fatto degli errori Smadornali Oggi Mamma Mamma mia Mamma mia Non ci voglio pensare Mi merito Di perdere quella partita Me lo merito Me lo merito Speriamo che Questa vada meglio Signori Perché Perché si Per forza Speriamo Veramente Con tutto il cuore Valkyria Aia Non ci distrugge Neanche il cerbottaniere Hai capito E il cerbottaniere Può sfruttare danni Oh ragazzi Il cerbottaniere Immortale Non ho parole Il cerbottaniere Che carta ragazzi Che carta Il cerbottaniere Assurda Una carta assurda È troppo forte Questa carta Eeeh What bro Stai scherzando Fratello Sta scherzando Merda ragazzi Mazzarco X Merda Non me l'aspettavo Anche se con questi Quindi c'è pure la Tesla Mi stai dicendo Mi stai dicendo Vero Mi stai dicendo Che adesso Piazzi la Tesla Non la piazza Mmm Mmm È difficile Perché Mazzarco X Non lo so gestire Ma è proprio Un problema mio Non è un problema Della versione È proprio un problema mio Per me è un mazzo Difficile da gestire Soprattutto con l'altro deck Che utilizzavo Con questo deck Sto utilizzando molto Il ladder Perché mi trovo Veramente bene Attenzione che qui Che qui entrano danni Su danni Merda Qui Qui signori Su danni eh Qui su danni Allora io partirei Con la valca Da dietro Adesso che c'è il per due Ho un po' paura Di quell'arco X Sono proprio sincero Non penso che abbia Slogato eh Non Non penso Perché no Posso dire Che mi va bene Posso dire che A me mi va bene Beh sì Come avrete visto Sì Mi è esploso il microfono Eh già Purtroppo questo problema Col microfono Alcune volte mi esplode Comunque sì Faccio l'ultima partita Che vi spoilerò già Che Vin No non ve lo dico Non ve lo dico Ve la mando velocizzata Mi dispiace Però il mio microfono Eh Da questi problemi Però prometto Che lo cambierò Guardatevi quest'ultimo game E noi ci vediamo Alla fine del video Eh sì Provo a fare il doppiatore Anche se non ci riuscirò Ebbene sì Più 31 tofei Devo dire Bella partita Siamo arrivati a 6.922 coppe Devo dire che è venuto fuori Un bel episodio Vi ringrazio ancora Se siete arrivati Fino alla parte del video Se ancora non l'avete fatto Commenta il video E lascia un bel like E mi raccomando Iscriviti se sei nuovo Mi raccomando Noi ci vediamo A un prossimo video Bella Noi ci vediamo 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 Noi ci vediamo